L'amore è tutto ciò che esiste. Lo so, lo avete già sentito e anche letto chissà quante volte, ma quando affrontate difficoltà, preoccupazioni, dubbi o paure, voi preferite dimenticarlo. Ciò che dovreste fare invece è rispondere a questa semplice domanda, che cosa farebbe ora l'amore? Ricordi la domanda, che cosa farebbe ora l'amore? Certamente. Rispondi a questa domanda, Neil, e io sarò lì, sempre. E in qualsiasi modo.